Essere accanto in 30 secondi. Accendiamo? Accendiamo. Gli antidepressivi possono dare problemi sessuali, vero o falso? Vero, gli antidepressivi possono dare problemi sessuali sia nell'uomo che nella donna, più fastidiosi nell'uomo. Tutti gli ansiolitici sono efficaci per i problemi di sonno, vero o falso? Falso, non tutti gli ansiolitici sono efficaci per i problemi di sonno. La primavera può essere causa di disturbi di concentrazione, vero o falso? Vero, la primavera può causare problemi di concentrazione e di attenzione, anche perché tutto si vorrebbe fare tranne che lavorare.